Ciao, oggi impariamo come utilizzare la funzionalità estendi schermo in caso di didattica digitale integrata. È una funzionalità a cui vale davvero la pena dedicare un po' di tempo perché cambia tantissimo la qualità dell'insegnamento in didattica digitale integrata, soprattutto per noi docenti, ma in realtà scopriremo tantissimo anche per i nostri piccoli studenti collegati da casa e che spesso sanno benissimo che si ritroveranno in multivisione proiettati sulla LIM in classe e sappiamo bene anche che questo potrebbe essere uno dei motivi per cui alcuni senz'altro tengono le videocamere spente anche se li sollecitiamo. Quindi vediamo come risolvere questo problema e come vedere sempre tutti i nostri studenti sia che siamo in classe in didattica digitale integrata, sia che siamo noi magari per sfortuna a casa collegati e dobbiamo magari usare la LIM, presentare lo schermo, condividere un progetto, controllare cosa stanno facendo su un documento condiviso, ma non vogliamo perdere di vista la chat o quei simpatici pallini che ci sono al posto delle loro videocamere o se le hanno accese proprio le loro facce, le loro espressioni che tanto ci dicono su come si sta svolgendo la lezione e quanto stanno capendo di quello che gli stiamo spiegando. La funzionalità esterne di schermo è meravigliosa in classe. Se imparate ad utilizzarla e dedicate un paio di minuti per impostarla quando entrate, avete la LIM collegata al PC, infatti riuscirete a smettere di proiettare gli studenti sulla LIM che poi sappiamo benissimo che questo causa un po' di distrazione in tutto il gruppo classe. Riusciremo noi invece sempre a vederli dal nostro PC sulla cattedra o dove avete appoggiato il PC di classe, su cui c'è il vostro account, è aperto Google Meet, mentre noi lavoreremo tranquillamente alla LIM senza che gli studenti in classe siano distratti dalle facce degli studenti a casa perché li stiamo proiettando proprio dove invece dovremmo lavorare. E noi potremo in qualsiasi momento lavorare alla LIM e in contemporanea vedere i nostri studenti che da casa ovviamente vedranno invece solamente noi perché saremo noi davanti alla videocamera e la LIM. Per capirci meglio insomma in classe noi avremo gli studenti che staranno guardando direttamente noi e il materiale digitale che avremo a disposizione per la nostra lezione, mentre noi potremo sempre tenere d'occhio sia la classe che gli studenti collegati a casa dallo schermo del PC da cui ovviamente parte il materiale digitale che abbiamo presentato sulla LIM ma che non copre mai la schermata di Meet permettendoci sempre di vedere tutti gli studenti. D'altra parte anche se siamo a casa, spero per voi che l'abbiate utilizzata tantissimo in dado perché era la soluzione migliore, possiamo utilizzare questa strategia per avere i nostri studenti su uno schermo magari molto grande come quello della televisione e invece sull'altro il nostro materiale digitale utile alla lezione che può essere anche il registro elettronico, magari non vogliamo proiettarlo sullo schermo per via dei dati sensibili oppure la presentazione del file su cui dobbiamo lavorare. Quindi anche da casa perché no? Nel caso della classe era la LIM a essere il nostro secondo schermo ma a casa chi non ha un PC e un televisore e chi ormai non ha un televisore collegabile con un cavo al computer forse non lo sapete ma lo stesso cavo che collega il vostro televisore a per esempio al lettore Blu-ray se ce l'avete o alla Playstation dei vostri figli è lo stesso cavo che si può portare fino al computer per fare in modo che compaia appunto questo magico secondo schermo. La modalità di collegamento è davvero facilissima basta dare un'occhiata dietro al nostro televisore e dietro al nostro PC se esiste questo attacco HDMI che qui vedete nelle immagini. Esistono questi cavi in commercio, sono di tutte le lunghezze perché appunto prevedono di collegare magari anche schermi lontani ed è lo stesso cavo che realisticamente ancora oggi nelle nostre classi collega le LIM al nostro computer o anche le Smart TV. Vediamo passo passo come impostare il computer. Questo è lo sfondo del mio desktop quindi tasto destro compare il menu dove qualsiasi versione voi abbiate di Windows avete la voce impostazioni schermo quando la aprite e se avete l'ultima versione di Windows avete esattamente la mia stessa schermata avete una parte che riguarda proprio l'utilizzo di più schermi. Ora io qui ho la funzione duplica a questi schermi il che vuol dire che se ho appena attaccato con l'HDMI il mio computer al mio televisore vedo esattamente la stessa immagine sul televisore e sul PC. A questo punto vado a cercare proprio questo tipo di icona anche se è un menu diverso e troverò la funzione estendi questi schermi che è proprio quella che vogliamo utilizzare. Con estendi questi schermi cliccando su mantieni modifiche avrete quindi anche qui la comparsa di due schermi diversi. Vi consiglio subito prima di uscire da qui di identificarli quindi cliccate su identifiche e controllate il numero che compare quindi qui sul mio PC è comparso il numero 2 come avete visto mentre sul televisore è comparso il numero 1. A questo punto quindi voglio controllare che corrispondano nelle posizioni perché ora dal mio monitor 2 se io scorro con il mouse verso sinistra dovrei arrivare sul monitor 1 quindi nel mio caso vorrebbe dire dal PC alla televisione perciò posizionatevi con il mouse sul vostro schermo del PC e scorrete in direzione del vostro televisore come vedete il mio mouse scompare e ricompare all'interno del mio televisore e ricompare se questo non accade cioè accade questo che ora vi faccio vedere verso destra io non posso andare il mouse si ferma e io non posso scorrere non posso trovare il televisore è perché l'ordine qui dei miei due schermi è sbagliato quindi io basta che trascini in questo caso e metta il mio PC a sinistra e il mio schermo a destra in questa maniera significa che io per andare dal PC schermo 2 al mio televisore schermo 1 devo come vedete qui in questa icona andare a destra e infatti qui è possibile andare verso destra e comparire sul televisore lasciatemi infine ricordarvi che una volta che avete effettuato questo collegamento e questa funzionalità di estendi schermo tutto quello che vedete voi sul vostro PC non lo vedranno gli studenti a meno che non presentiate lo schermo ovviamente e che quando presenterete lo schermo potrete decidere quali dei due schermi presentare però la presentazione dello schermo non sempre è l'opzione ottimale ora che abbiamo evoluto anche noi tantissime risposte a questa didattica a distanza abbiamo delle altre scelte presentare lo schermo spesso significa diminuire la qualità e soprattutto la dimensione del nostro file che stiamo mandando in visibilità ai ragazzi quindi la qualità del collegamento comunque anche per loro cade vi consiglio invece sempre di utilizzare quando possibile dei file condivisi che sono così con i vostri studenti condivisibili con un click e non con una presentazione dello schermo in modo che inviando un link loro possano direttamente aprire il file su un'altra scheda del loro computer e guardarlo grande come se fossero davvero in classe con voi mentre lo state proiettando alla LIM e non lo vedono invece attraverso Google Meet che comunque ha questa funzionalità presentazione dello schermo ma che appesantisce la connessione e riduce la dimensione del file che è in visione ai ragazzi perché lo vedono comunque in una disponibilità di spazio più piccola e voi vedete comunque anche sempre meno studenti nel momento in cui presentate lo schermo con tutti i trucchi che potreste utilizzare disponibili con Meet ultimamente è comunque sempre una funzionalità che vi ruba quantomeno uno spazio perciò anche in classi molto numerose vi consiglio invece che scrivere alla LIM magari invece di scrivere su un file condiviso in drive e mandarlo in condivisione con i ragazzi che lo guarderanno fuori da Meet in un'altra scheda oppure di controllare quello che stanno facendo gli studenti allo stesso modo facendo in modo che loro condividano i loro file con voi che li vedrete appunto di nuovo su uno di questi schermi che avrete esteso questi e tantissimi altri consigli didattici e tecnologici si trovano su un corso nuovo nuovo e freschissimo che sta per uscire sulla piattaforma wiki scuola senz'altro vi avviserò dell'uscita di questo nuovo corso che vi permette di ottimizzare al massimo dal punto di vista sia delle strategie didattiche che delle strategie tecnologiche le vostre lezioni in ddi nel frattempo vi lascio qui in alto il link che vi porta alla mia pagina wiki scuola e giù nella descrizione di questo video l'iscrizione alla newsletter tramite cui verrete senz'altro avvisati dell'uscita di questo mio nuovo corso vi auguro una buona ddi e ci vediamo nel prossimo video tutorial grazie